Bonnet o bonnet, delizioso dolce al cucchiaio della tradizione delle langhe, ricco di aroma, facile da fare e dal gusto inconfondibile. In un pentolino ponete lo zucchero, 4 gocce di limone, ponete sul fuoco e agitando il pentolino fate sciogliere. Versate il caramello in uno stampo e velocemente ricoprite la base e le pareti. Lavorate velocemente le uova con lo zucchero senza montarle. Unite il cacao setacciato, il caffè freddo, il rum e gli amaretti sbriciolati. Unite al latte freddo e mescolate. In una teglia dei bordi alti mettete al centro della cassa da cucina, quindi lo stampo, riempiteli con il composto, versate dell'acqua ed infornate. Forno statico 180 gradi per 50 minuti. Togliete lo stampo dall'acqua, fatelo raffreddare a temperatura ambiente e successivamente in frigo per almeno 2 ore. Dopo riposo in frigorifero girate il bonnet su di un piatto da portate e decoratelo. Grazie.